Sono disponibili sulla social tv del Consiglio regionale quattro filmati realizzati su iniziativa del Club Alpino Italiano di Lanzo con compagnie di San Paolo che propongono cinque itinerari escursionistici alla scoperta delle valli di Lanzo. Ciascun filmato della durata di circa dieci minuti contiene informazioni sull'itinerario proposto, il tempo di percorrenza, il percorso, eventuali dislivelli, l'equipaggiamento necessario, il grado di difficoltà, il periodo consigliato e i punti di interesse storico artistico.